ciao caro spirito eterno bentornato benvenuto ti ricordo in ogni video che non sei mai nato non sei mai morto ma sei eternamente presente a te stesso faccio un esempio una barca senza timone immagino di essere arriva al mare e vedi due barca abbastanza grosse che vanno in una direzione anche barche che magari hanno il motore il grosso no metti due barche che di 20 metri che vanno tutti metti a guardare vedi il cielo vedi ma anche sotto una barca gira e sembra che torna indietro poi si sposta e va dritto mentre l'altra prosegue poi che cosa potresti scoprire che una delle due barche ha un timone capito il timone la direzione l'altra no però perché si muovono tutte e due la barca col timone si muove e qualcuno fa il timoniere timoniere vuol dire che capitano dalla nave a seconda della grandezza della nave va in quella direzione la barca senza timone è portata dalle correnti per questo la corrente va da sinistra a destra poi se cambia la corrente se cambia la corrente cambia per tutte e due le barche anche per quella che ha il timone però il motore se a barche piccola c'è un timone sa ancora quelli di una volta ci sono delle barche hanno quei timoni rotondi con gli appoggi per le mani oppure ci sono dei capitani dalla nave che coordinano oramai c'è una tecnologia per cui la nave va nella direzione in cui vuole il capitano che possiamo chiamare il timoniere il vero timoniere una volta era chiamato timoniere quello che stava attaccato proprio al timone che era collegato fuori dalla dalla barca e paragoniamo adesso queste due barche a due persone molte persone vanno in base alle correnti no quindi non è che vanno sono mosse dalle correnti e si capisce anche nel linguaggio poi parli con qualcuno e ti risponde come va tu dici come va e tiriamo avanti usa già il plurale non tiro tiriamo come va va come va e vado vado avanti avanti ci sono anche quelli che rispondono come va non lo so neanche io come va oppure va male insomma tanti modi di rispondere perché perché non c'è una direzione non c'è una volontà sembra perché conosco degli amici che fanno questi corsi cioè gestiscono questi corsi li ho incontrati nei corsi dei decenni della mia vita che fanno dei corsi anche guadagnando soldi ai manager delle aziende in cui spiegano che l'azienda e il manager il dirigente devono andare nella stessa direzione allora vi racconto io ho vissuto diversi anni negli stati uniti vi racconto alcuni amici che mi hanno raccontato che loro fanno questi si chiamano coach coach si chiamano allenatori no trainer cioè una delle parole di credenza ho fatto un corso per 400 manager cioè c'era un'azienda che non grossa internazionale non sto dire nome che vedeva che i manager non giravano bene tra di loro allora hanno chiamato questi li hanno portati 400 in un villaggio un po semi semi abbandonato c'era un villaggio di in arizona e questi c'è tre quattro cento forse 500 o 400 500 li hanno portati la con i pullman appena arrivati dovevano consegnare carte di credito soldi ognuno aveva un sacchetto c'erano quelli che prendeva telefonini computer niente non dovevano avere niente per 45 giorni li ha messi a dormire questi che viaggiavano business class alberghi da quattro stelle in sosa messi a dormire quattro per per stanza con un bagno in comune questi erano abituati a un livello manager top si dice no su e questi miei amici hanno fatto un discorso iniziale dicendo per il primo giorno non c'è nessun incontro quindi questi sono arrivati c'è la riunione per il primo giorno c'è nessuno quindi il primo giorno sarebbe secondo per il primo giorno arrivano sistematevi ognuno ha il letto ci hanno detto che cosa portare quindi i vestiti leggeri facili l'arizona fa caldo quindi bastava una borsa con dei ricambi e così no spazzioni da denti sapere quindi questi arrivano abituati a fare i manager i dirigenti aziendali primo giorno arrivano secondo giorno zero al terzo giorno gli dicono riunione domani facciamo qualcosa insieme e intanto c'era malessere perché questi erano abituati a fare 50 60 qualcuno anche 100 telefonate al giorno di lavoro 100 pensate non sapevano più cosa fare la sera cala il tramonto non c'è televisione radio internet c'è niente domani facciamo qualcosa inderminate che cos'era qualcosa che questi tre sono passati con dei bei vassoi con una collinetta di uvette sapete l'uvetta sultanina e dicevano prendi una tiene in bocca più possibile per sentire il gusto questi erano abituati a pranzi di lusso e cene da fare e quando loro mangiavano non sentivano più niente pensavano al business a quello che gli stava davanti come convincere quello che gli stava davanti gli danno una gli davano anche da mangiare alimentazione vegetariana leggerissima niente di speciale però per sopravvivere il giorno dopo c'è l'incontro sui rapporti umani c'è una spiegazione di qualche ora in cui viene spiegato che nell'azienda se tutti non hanno la stessa direzione quindi il timone la direzione l'azienda va giù quindi creano lo spirito quello che si chiama spirito di gruppo lo spirito di squadra alla fine della spiegazione durata diverse ore tutti si sono abbracciati e non gli avevano detto però quanti giorni durava gli avevano detto una settimana invece al quarto giorno gli avevano detto domani ripartita quindi loro pensavano stare sette invece cinque quindi sorpresa su sorpresa questi qua si sono abbracciati tra di loro sono diventati amici così sono tornati nell'azienda che non erano tutti nella stessa sede e hanno sviluppato lo spirito di gruppo ci hanno capito è meglio andare tutti nella stessa direzione e non avere invidia rivalità se quel dipartimento va male il mio va bene se la mia sede è meglio dalla tua ecco ma allora io dico se le aziende pagano tanto un mio amico guadagnava a fare queste consultazioni 650 euro l'ora ogni ora che parlava 650 euro però perché perché produceva risultati ma io dico ma perché non l'applichiamo alla spiritualità già perché non facciamo veramente ma in che direzione stai andando no se tu hai nella relazione dell'abbondanza magari sì della ricchezza bene ma anche della buona salute sì ma poi tutto un giorno finisce c'erano dei saggi in varie culture del mondo che hanno detto nasciamo a mani vuote e andiamo via a mani vuote qui non puoi portare niente è vero che sono delle culture dove ti dicono ma anche qua ho saputo che certi sono stati sepolti nella bara col ferma cravate d'oro la penna stilografica un rosario pregiato in mano c'è delle scarpe nuove ma perché cosa ha trovato delle tombe dove c'erano dentro olio vino antiche ma perché cosa è morto no quindi noi dobbiamo imparare a liberare le mani lavare le mani a tenere le mani libere le mani la mente usa la mente tenendo la vuota ogni tanto pulisci il bicchiere pulisci il piatto pulisci la mente quindi attenzione a non essere una barca senza timone dirigiti tu sembrano questi corsi che fanno i manager quasi spirituali quasi perché devi seguire delle regole capire ottimizzare ecco una parola che utilizzo ottimizziamo il tempo cioè da ottimo ottimizzare il tempo visualizza il tuo successo dai energia attenzione al tuo successo ma io dico ma non è meglio capire che per quanto fai allora mi viene in mente steve jobs steve jobs quello che ha creato il personal computer l'iphone la apple che è costata la più grande multinazionale del mondo al momento quella dei telefonini e lui stava morendo in una stanza in un ospedale di lusso però stava morendo era tutto collegato cancro al pancreas quindi non digeriva quello che aveva creato e dice ho avuto successo ricchezza uno yacht un aereo personale tutto adesso passo la giornata a vedere due lucette di una parecchiatura luce verde luce rossa alternata che segnalavano come stava poi è morto allora dice qual è il vero successo lui nel telefonino aveva fatto mettere il libro che vi faccio vedere se ne vuoi una copia te la mando di autobiografia di uno yogi di paramansa yogananda tu mi scrivi te la mando volentieri allora è meglio mettersi al timone della propria esistenza e poi sapere che se il corpo è una barca in qualunque direzione mandiamo o andiamo poi noi dalla barca dobbiamo scendere a 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